Termo idraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile grazie al graduale ritorno dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Sulle Dolomiti il pericolo di Varanghe sarà marcato, grado 3 della scala. Temperature in aumento, valori superiori alla media del periodo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 13 e 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, con cielo in genere poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà piuttosto soleggiato, tranne nubi residue lungo la cresta di confine. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 14. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Se compri la caldaia, fa l'abolicimento e condizionato. Avevo